bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video sappiamo del bug dove gli npc non sono distribuiti nella mappa quindi tutte queste missioni per ora in teoria non possiamo farli con gli npc fisici ma c'è un modo per sovviare ciò ovvero andare nelle cabine telefoniche e accettare l'incarico direttamente dalla cabina qua abbiamo batman corazzato poi abbiamo anche il nostro amico beat quindi ci basterà accettare l'incarico ci basterà completarlo e tac missione fatta ragazzi purtroppo abbiamo questo bug l'abbiamo saputo da poco purtroppo ancora gli npc non sono stati inseriti infatti fortnite status su twitter ha detto che le missioni sono comunque sia completabili tramite appunto le nostre cabine telefoniche detto ciò spero ragazzi di esservi stati utile se vi sono stati utile sempre un bel like una bella iscrizione al canale e ovviamente codice creatore x manone 97 scrivetemi qua sotto se riuscite a completare gli incarichi detto ciò noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video ciao ragazzi buon batman